all'insegna del sempre più difficile io continuo a gironzolare e chiaramente con la mia esperienza a trovare ciò che cerco questo fungo completamente sotterrato non è sfuggito alla alla mia caccia qui addirittura ci sono delle radici date qua il fungo è tutto abbarbicato non ci ho lavorato già da una decina di minuti per farvelo vedere che ora guardate qualche bellezza di fungo completamente nascosto quasi perché vedete la parte bianca vuol dire che la terra l'aveva coperto la parte nera è stato l'unico marrone l'unico indizio che mi ha permesso di scovarlo completamente eccolo qua e con questo diciamo la stagione se non è chiusa ci manca poco comunque anche oggi ho fatto un buon raccolto arrivederci